Oggi a Roma previsti due incontri tra state e regione Sicilia per l'emergenza rifiuti, emergenza che vede nell'occhio del ciclone le discariche dalla OICOS nel Messinese a quella di Lentini fino a Siculiana e Ragusa. Interessate dall'ordinanza straordinaria che scade tra cinque giorni, che aveva consentito di smaltire rifiuti anche oltre il limite naturale. Il vertice di oggi pomeriggio vedrà riuniti prima l'assessore Vania Contraffatto e poi in tarda serata il presidente della regione Rosario Crocetta, con il ministro Gianluigi Galletti e il sottosegretario Claudio De Vincenti. Si confronteranno con uno scenario in cui non sono presenti i termovalorizzatori o sono ancora in fase di realizzazione gli impianti di compostaggio. A questo punto la soluzione più probabile è che venga emessa un'ordinanza a doppia firma Galletti Crocetta, che darà il potere di continuare a sfruttare oltre normali limiti le attuali discariche. In questo modo la regione otterrà la possibilità di gestire con calma la fase di transizione dalle discariche a un sistema che mette insieme raccolta differenziata di scariche e due termovalorizzatori che saranno pronti solo fra qualche anno. In tal modo la regione non otterrà la possibilità di accelerare con procedure e poteri speciali la realizzazione di nuovi impianti già da tempo richiesti dallo stesso Crocetta. In assenza di questi poteri speciali non sarebbe superfluo nominare un commissario affidando a Crocetta la semplice gestione dell'ordinanza che proroga lo sfruttamento delle discariche. Ieri a Palazzo d'Orlean e anche in assessorato circolava l'eventualità che saltino i poteri speciali per gli impianti. Certo l'ordinanza che si sta elaborando detterà condizioni alla regione, la principale delle quali riguarda l'incremento della raccolta differenziata, anche se nonostante l'ordinanza sarà possibile continuare a sfruttare la discarica ragusana di Siculiana. Questo comporterebbe la necessità di trasferire fuori dall'isola circa mille tonnellate di rifiuti prodotti giornalmente. Sulla questione si oppone l'assessorato regionale in quanto Siculiana produce rifiuti pretrattati che per legge non possono essere trasferiti fuori. Inoltre questo graverebbe con ingenti costi difficili da coprire.